Il Geno dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene, non sarà facile perché giochi contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello, tecnico, fisico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo il Genoa sa che deve esprimersi al meglio in tutti i momenti e nelle due fasi della partita. Per me il Napoli è una squadra europea, si presenta con tanti giocatori di qualità, sono bravi ad allargarti, sono bravi nell'uno contro uno, sono bravi ad attaccare la profondità, sono comunque una squadra che in fase difensiva sono solidi, sono equilibrati, sono compatti e quindi quelle volte che ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto. Io penso che il Genoa è concentrato sulla partita che c'è domani, quello che è stato già, ci siamo, non dico dimenticati, ma quasi la partita fatta, quello che è stato fatto fino ad ora, quindi per me il Genoa deve guardare avanti e avanti avanti a sé c'è il Napoli. Ma io posso raccontare del Marco Rossi giocatore, io penso che è il prototipo del giocatore che un allenatore vorrebbe sempre avere, cioè chiunque vuole avere un giocatore come Marco Rossi, e parlo nel mio ruolo. E l'uomo rispecchia il giocatore, bello, pulito, così sempre molto sincero, schietto, quindi è una persona, diciamo così, nell'ambiente calcistico da prendere come esempio.